Marco Vigliotta, consigliere delegato del Comitato Regionale della Campania, dunque siete arrivati ad un soffio da questo trofeo di Corpus Domini, però insomma anche per voi è stata una bellissima esperienza. Sì, è una bellissima esperienza anche perché quando ci sono questo tipo di organizzazioni alle spalle è sempre bello partecipare a questi eventi, anche e soprattutto per i ragazzi che hanno una vetrina, sono sempre delle belle vetrine, soprattutto quando poi partecipano anche club di Serie A, quindi professionisti, i ragazzi hanno un'opportunità di sbocco nel calcio professionista. Sì, arriviamo sempre ad un soffio anche nel Torno delle Regioni, siamo arrivati in semifinale con la 17 che ha giocato con la 19, speriamo insomma di arrivare sempre a secondi, prima o poi ce la faremo, però i ragazzi sono stati molto bravi, ci si è vista una bella partita in campo, un bel fair play, speriamo che questo è il calcio e è bello anche per questo. Assolutamente, insomma vi siete trovati bene qui in Molise anche nell'ottica di questa festività? Assolutamente, questo è un po' quello che ci differenzia dagli altri, il Sud siamo accoglienti con le ottime strutture, siamo stati veramente trattati bene, e speriamo l'anno prossimo, già abbiamo parlato anche con il Presidente, ci sarà un allargamento pure delle altre società, con altre società professionistiche, insomma non vediamo l'ora di ritornare l'anno prossimo, speriamo di vincerlo. A questo punto sì, assolutamente, quindi l'in bocca al lupo, non solo naturalmente per questo, ma voi del Comitato Regionale della Campania, siamo confinanti, quindi insomma ci conosciamo bene, anche di continuare in questo lavoro con i giovani, perché oggi non è semplice come lo era anni fa e quindi bisogna stare sul pezzo, come si dice. Esatto sì, la base del calcio è il dilettantismo e i giovani servono al professionismo, quindi speriamo di sfornarne quanto è più possibile nel club professionisti, ma soprattutto per la nazionale.